li segnalo eh si allora faccio chiudere il canale grazie adesso gli chiudiamo il canale a the best players quindi ci sono gli spettatori c'è uno spettatore e un altro commento chi è lo spettatore? adesso io chiuderò i canali se ci riesco di questi due pirla però io ho chiuso i minchia di messaggi non c'è un problema 300 secondi sono 5 minuti 5 minuti sono passati non ho aspettato un minuto 2 minuti sono passati